Non lo so, io devo prendere 5 mesi, in meno di 30 minuti. Oh cielo, ma è tantissimo! Staremo le cancane! Siamo in piano inverno, eppure c'è la fila. E so che quanto deve essere buono questo genacchio se la gente viene anche quando c'è un freddo cane. Deve essere meglio della tradizione di famiglia nel 1913. I due pasticciani greci, Eri Garanzi e Pete Jugalov, aprirono il crocchetti quasi un secolo fa. E per distinguere questi italiani ai pasticcieri e diedero vita alla sfida dei bici.